Grazie. 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 E quindi mi è arrivato questo libro che già mi aveva accogliato dalla PNC. E mi ci sono riondata, che ne sono innamorata. Ovviamente ho scritto a Cizia. Quindi ci siamo conosciute sui social e l'abbiamo anche intervistata. È stata molto diretta. Posso salutarvi? Carinissima. Allora, ho un po' di progetti che non sono curati in scuola, perché sono un po' di relazione. Sono facendo un po' di relazioni. Però ci sono belle cose che è in grado. E su una strada scena che rimane a scosta con un spettacolo che è portato con i giovani, che parla della storia dell'ambulazione con Punturino a Torino. E' stata una festa divertente in prossimo. Ed è sempre bello. Tipo, sa che si mette a una scena che è sempre più divertente. Ed è bello in comprare il pubblico, vedermi, ridere, pipare per i 50 minuti dell'ospettacolo. Sì, oggi è di grande imporso. Oggi è una giocata faccola di Punturino a Torino 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 a Torino. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Ciao.